e con questo nella mente muoviamoci nella meditazione e ascoltiamo di più da Kryon forse della saggezza che sarà condivisa che può aiutare coloro che si sentono scoraggiati e in particolare se riguarda te che ti stai sentendo un po' scoraggiato o ti senti a un punto di abbandonare di rinunciare, arrenderti ecco, sospendi il tempo solo per adesso sospendi il pensiero di arrenderti e metti le tue mani sul tuo cuore e chiudi i tuoi occhi e fai un profondo respiro permetti al tuo corpo di rilassarsi senti tutte le tensioni che se ne vanno e voglio ricordarti che non c'è nulla da fare ti viene solo chiesto in questo momento di lasciarti andare nelle braccia dello spirito senti te stesso abbracciato in una bolla di benevolenza amore, supporto e permetti a te stesso di accettare e ricevere questo aiuto amorevole che è qui per te permetti a te stesso di sentire la connessione con tutte le altre anime sul pianeta che si sono sintonizzati a questi messaggi anche loro ti stanno dando supporto e ti stanno incoraggiando puoi farlo puoi fare questo puoi accettare l'amore di Dio puoi farlo rilassati più in profondità non c'è nulla da fare semplicemente siedi e ricevi i messaggi da Kryon e l'amore incondizionato che ti sono trasmessi adesso saluti miei cari io sono Kryon del servizio magnetico veniamo di nuovo con un messaggio articolato in quattro parti ascoltabili da tutti quanti questa è la parte una di quattro e l'argomento sarà diverso per ogni parte l'argomento generale di questo mese di questi quattro incontri riguarda verità spettacolari e controverse le cose sono cambiate in questo ultimo anno o giù di lì per quanto riguarda i messaggi di Kryon e ciò che è cambiato maggiormente è che più persone le stanno ricevendo in maniera diversa rispetto a prima mentre prima in un tempo precedente l'informazione era per lo più scritta oggi è sempre meno in questo modo e la maggior parte delle informazioni in questo momento vengono ricevute attraverso video e audio perciò ci sono tante persone che non hanno letto ho ascoltato i messaggi che sono assolutamente le fondamenta di tutto ciò che voglio darvi quindi per qualcuno questo sarà un importante ripasso di verità che vi sono state date per trent'anni e qualcuno le ascolterà per la prima volta e altri le ascolteranno di nuovo ma in modo diverso ogni verità che voglio darvi in questi quattro incontri è spettacolare è spettacolare perché cambia oserei dire proprio le fondamenta di chi pensate di essere o di cosa vi è stato insegnato la seconda parte è controversa al massimo perché quello che diremo in queste verità non è proprio quello che vi è stato insegnato nella vostra cultura e sarà controverso per molte persone per la maggior parte in realtà e la terza è una verità intrisa d'amore compassione realtà è una verità la prima che voglio dirvi è quella che vi abbiamo trasmesso continuamente ma questa volta in questa serie di messaggi sulle verità vorrei che ne prendiate atto completamente se volete e se potete questa verità spettacolare è che la sorgente creatrice della vostra anima quello che voi chiamate Dio o Spirito qualunque nome gli abbiate dato il pianeta crede quasi unanimamente in questo Dio in questa sorgente creatrice l'ottanta per cento o più dell'umanità crede nella vita dopo la morte e capisce che c'è un'anima e che deve esserci una sorgente creatrice di quest'anima e poi arrivano tutte le vostre dottrine che vi dicono come funziona e come pregare Dio e cosa ne pensa Dio di tutto questo e allora diventa un'impostazione per la relazione o per la conoscenza della sorgente creatrice ecco cosa voglio dirvi la verità spettacolare e controversa di tutti i tempi è questa questo creatore della vostra anima questo Dio lo Spirito questa bellissima compassionevole e spettacolare energia non vi giudica e non vi punisce avete sentito ascoltatelo di nuovo la bellissima sorgente creatrice piena d'amore tutto ciò che c'è che ha creato la vostra anima e vi ha resi a sua immagine questa sorgente creatrice non vi giudica e non vi punisce eppure la maggior parte delle dottrine delle dottrine di questo pianeta ha ignorato il fatto che Dio non pensa come un essere umano Dio non pensa affatto il stesso processo del pensare è qualcosa che voi fate Dio semplicemente è è un'energia incontenibile di perdono e amore ed è al di là di quello che potete immaginare e quello che avete fatto voi invece voi in quanto collettivo su questo pianeta è rendere Dio letteralmente un padre disfunzionale ed è disfunzionale perché è molto meno logico e funzionale di voi ascoltate secondo molte delle dottrine del pianeta c'è questa bellissima sorgente creatrice che vi ha messi su questo pianeta quasi come bambini innocenti vi ha dato delle indicazioni e poi se ne è andata e secondo le vostre dottrine l'umanità ha fatto qualcosa di sbagliato non ha obbedito alle istruzioni e quindi immediatamente il libero arbitrio che avevate è stato giudicato secondo le vostre dottrine e non solo giudicato ma anche punito perciò si può dire che a causa di uno o due esseri umani disfunzionali all'inizio della vostra storia secondo le vostre dottrine tutta l'umanità è stata inviata per punizione in brutti posti a meno che naturalmente non facciate qualcosa e questo qualcosa è agganciarsi a quello che voi chiamate la fede in un maestro in un processo o in alcune cose quindi facendo un certo tipo di cose potete sfuggire alla punizione questo è quello che vi è sempre stato insegnato e non solo questo se non fate queste cose il bellissimo creatore della vostra anima che vi ha creati a sua immagine vi porterà in un luogo orribile e vi consegnerà a torture diaboliche dove verrete torturati e bruciati vivi ogni giorno pensate che mi stia inventando tutto date un'occhiata ai dipinti che sono in alcune delle vostre chiese lo hanno dipinto come pensate che si senta un bambino che vede queste scene orribili dipinte che accadranno se lui non si comporterà bene vi chiederò di nuovo pensate che questo provenga da Dio o dall'uomo e la risposta è ovviamente non è nemmeno spiritualmente logico il fatto che Dio possa punirvi è certamente controverso perché è in netto contrasto con quasi tutte le dottrine che abbiate mai avuto per quasi tutte infatti è meglio che vi comportiate bene equivale quasi a un padre disfunzionale per esempio come genitori madri lasciate che vi domandi quanto amate i vostri figli l'amore di un genitore per un figlio è l'amore più grande che ci sia sul pianeta è proprio così madre se tuo figlio fa un errore cosa fai? lo prendi in braccio asciughi le sue lacrime lo aiuti a riprovare dandogli di nuovo le indicazioni anche se è un bambino ribelle anche quel figlio che non ha ascoltato ed è andato a fare cose orrende per la sua vita voi lo amate lo stesso non è che lo guardate negli occhi e gli dite bene hai fallito e per via di questo adesso ti torturerò ve l'ho detto voi non lo fareste credete davvero che lo farebbe il creatore dell'universo? ci sono anche molte storie molte scritture e allegorie che tentano di darvi le informazioni la parabola del figlio o il prodigo per esempio dove c'è un figlio che ha fatto tutto nel modo corretto l'altro che ha fatto tutto sbagliato e quando tornano a casa il padre li accoglie allo stesso modo con la stessa festa cosa vi dice questo sul creatore? amati oltre misura a prescindere e c'è chi dirà aspetta un momento deve esserci un prezzo da pagare se sei una persona malvagia io vi dirò che in questo mondo tridimensionale in quanto esseri umani nella vostra società ci sono prezzi da pagare e li gestite a modo vostro ma c'è un piano più grande che non ha nulla a che fare con quello che fate con il libero arbitro su questo pianeta c'è un piano ci sono altre esperienze in arrivo e in alcune delle prossime canalizzazioni ve le darò e questo vi dimostrerà che qui c'è un ciclo ci sono modi di risolvere il rompicapo tra luce e oscurità senza punire e torturare ogni anima qui che ha fatto qualcosa di sbagliato lo dirò lo dirò di nuovo la più grande e spettacolare verità è che voi siete amati oltre misura meritate di essere qui avete sentito e non sarete puniti se non vi conformerete a qualche tipo di processo se non farete o direte certe cose e se non adorerete un certo profeta controverso moltissimo capite la logica spirituale che Dio vi ama abbastanza e se vi ha dato il libero arbitrio allora voi avete davvero libero arbitrio libero arbitrio di creare questo pianeta in qualunque modo vogliate senza alcun intervento su alcune di queste scelte e c'è chi chiede Crayon perché non ci dici chi votare perché non ci dici questo e quest'altro e io vi dirò di nuovo che queste scelte specifiche plasmano la vostra umanità plasmano la vostra cultura e questo è il libero arbitrio cosa sceglierete di fare? e dal 2012 avete fatto delle scelte spettacolari avete scelto di restare e di iniziare a far uscire la luce e adesso siete amati anche più di prima non esiste l'inferno cari miei non ci sono punizioni c'è solo amore e compassione è abbastanza controverso pensateci è spettacolare e così è non ci sono Grazie a tutti